Ritmo, creatività, carattere e grande versatilità nel districarsi su più cifre stilistiche, dal jazz al rock all'elettronica, sono le peculiarità di uno dei batteristi più importanti al mondo, le cui generalità rispondono al nome di Marco Illiana. A Matera per il Agezziamoci 35, in una delle due tappe italiane e uniche al sud del suo tour europeo. In scena il suo terzo album, The Sound of Listening, dove per la prima volta sono stati introdotti e detto nuovi elementi come elettronico e fiati, forse la prossima evoluzione del gruppo. Marco Illiana ha suonato live con molti importanti artisti del panorama internazionale come Mention De Geosello, Gretchen Parlato, Vishay Cohen, Matisseau, Lionel Loewake, Duffer, Youssef e con i suoi gruppi Beat Music e Herndt. Un percorso di esperienze e ricordi. È difficile selezionare solo un ricordo delle collaborazioni. Mi sento molto fortunato ad aver fatto musica con tanti artisti e musicisti diversi. Penso che il comune denominatore sia che ognuno di loro ha il proprio percorso, che li rende unici nel modo di esprimersi. Imparo sempre qualcosa da queste collaborazioni. A suo agio a Matera per Regezianoci. È un onore far parte del festival e della sua storia, così come di quella della città, che è un posto molto speciale. Siamo sbalorditi, in ogni angolo c'è qualcosa di bellissimo e stiamo passando davvero delle belle giornate. Siamo vivendo un buon momento, quindi molto felice di essere qui.